Per una nuova fermata dell'alta velocità che arriva, rischia di sparire una coppia di intercity. In tema di treni, l'esultanza di Arezzo alla notizia di un treno alta velocità che arriverà da Roma attorno alle 20 viene strozzata dal rischio, per la verità paventato ogni anno e poi per fortuna sempre rientrato, che due intercity vengano cancellati. Intercity che rimangono una delle rare opportunità più o meno veloci per raggiungere in particolare Firenze e il Nord Italia. La regione Toscana sta cercando di muovere le giuste leve affinché questo non accada. Non sono treni che fanno parte del contratto che la regione Toscana ha con Trenitalia, però sono molto importanti perché si incastrano nel servizio anche regionale e quelli che passano dalla Toscana per medie e lunghe percorrenze nelle fasce del pendolarismo sono molto importanti anche per il trasporto soprattutto dei nostri pendolari. Quindi abbiamo voluto lanciare un grido di allarme per prevenire che tutti si mobilitino ad iniziare dai parlamentari perché questa cancellazione eventuale non avvenga. Noi investiamo molto come regione nel servizio regionale. Sono tante le risorse che del bilancio della regione vanno a integrare quelle provenienti dallo Stato per garantire un rapporto tra treni e popolazione residente in Toscana che è il più alto in Italia, però anche gli intercity fanno parte di questo sistema in maniera fondamentale. Ecco perché ci siamo attivati immediatamente, abbiamo chiesto comunque a tutti i soggetti che possono svolgere un'azione importante di attivarsi per salvare comunque la presenza degli intercity assieme al servizio regionale sul quale noi investiamo anche con qualche risultato qualitativo di miglioramento che in questi anni si è realizzato.